Le elettriche sempre presenti tra i nostri veicoli e lei è la nostra mitica Citroen C0, vediamola subito. Questi sono gli interni, come vedete a quattro posti. Zero come zero emissioni, zero come zero carburante ed eccomi a bordo della piccola elettrica di Citroen, Citroen C0. Ebbene sì, Citroen C0 è full electric, con una batteria da 49 kW di potenza, fino a 150 km di autonomia, con una velocità massima di 130 km all'ora, raga, una piccola bestia insomma. Da noi ne trovate tantissime a chilometro zero. Viene a scoprirle qui da noi in showroom oppure vai su rattiauto.com, il link lo trovi in descrizione. Qui da Ratti trovate veicoli chilometro zero, aziendali usati, benzina, diesel, elettrica, GPL, di tutto e di più ragazzi. Vi aspettiamo, a presto, ciao!